Un saluto. La nostra provincia, con quella di Trento, sono in Italia i territori in cui c'è il volontariato più forte. Ebbene, il mio invito è quello a trovare persone che si lancino in un nuovo tipo di volontariato, ed è quello per il decoro delle città, mantenere pulite le città, che stanno degradando sempre di più, in particolare a causa dei graffiti e delle scritte con le bombolette spray sui muri, sui muri degli edifici, sopra i bidoni delle immondizie, sopra i cestini delle immondizie, ovunque c'è uno spazio. È una cosa che ormai sta diventando una tortura e abbiamo queste nostre belle città, queste nostre belle piazze, nostre belle chiese che si ritrovano regolarmente lordate, insozzate da questi vandali. Sono così, sono dei mascalzoni dei vandali che danneggiano tutti. È una cosa grave, vi dico perché c'è a proposito una teoria sociologica, la teoria del vetro rotto, che è poi quella dell'immondizia per terra. Se c'è un vetro rotto su una casa è facile che anche il vetro della finestra vicina, se nessuno lo ripara, nessuno interviene, venga rotto nei prossimi giorni. Se in un angolo ci sono delle immondizie, delle cartacce e via dicendo, è facile che qualcuno passando di là dice che è già tanto sporco e sporco ancora di più e butta anche lì i suoi rifiuti. Il degrado chiama degrado, bisogna intervenire. Bene, ci sono città italiane da Milano a Roma, Venezia, che ne hanno gran bisogno, ad Ascoli e Piceno, dove dei volontari si sono messi insieme, hanno detto al comune, noi interveniamo e fanno delle opere collettive di pulizia, con l'attrezzatura giusta, di edifici, di palazzi, di chiese, di porte. Perché? Perché amano la loro città. Bene, io sono convinto che questo accada anche da noi dove le persone amano la propria città. Nei paesi questo non succede, succede soprattutto nelle città nostre più grandi. Questi vandali operano lì, danneggiano lì. Se il degrado di queste mura lorde resta, richiamerà altro degrado, non se ne verrà più fuori. Ed allora, cari giovani altotesini volontari, volete un nuovo campo di intervento? Ecco, qui c'è, saldiamo le nostre città dagli imbrattatori. Un saluto a tutti.